e di dinamiche politiche che sono contro le esigenze del Paese. Sì, per richiamo al regolamento. Prego, Colletti. Grazie, Presidente. Allora, se lo dice l'articolo, prego. Chiedo che venga interrogata l'Assemblea sull'opportunità di fare votazione nominale su questo punto. Votazione nominale, quindi, che avviene con registrazione di nome o per appello nominale? Vito a interrogare l'Assemblea nel prescrivere che 20 deputati devono appoggiare la questione. Grazie. Onorevole La Russa, prego. Presidente, poiché vi è la possibilità che lei accolga questa richiesta a decidere a lei, prima che questa venga decisa, a nome del gruppo Fratelli d'Italia, apro una piccolissima parentesi, la televisione della Camera continua a dire gruppo misto Fratelli d'Italia, no, levata il gruppo misto, grazie, comunicazione per la televisione. Lo abbiamo comunicato oggi la Costituzione del nostro gruppo? Parlo di quello che è apparso un minuto fa mentre parlava forse. Sì, sì, perfetto, perfetto. Ma non è importante. Voglio precisare che da parte nostra, mentre vi è stata piena accettazione in relazione alla nascita della commissione speciale, straordinaria, la chiami come vuole, riteniamo che non vi sia alcuna ragione, ed è stato già espresso questo argomento sia nella commissione sia ai capigruppo, perché venga...